Il Ministro dell'Agricoltura 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 E anche sotto questo punto di vista Dovremmo allargare però Quello che è il raggio E esaminare il problema Ritorno all'intervento iniziale Della Presidente Buccella Diceva L'Europa ci chiede Bene ma l'Europa Che attenzione ha Nei confronti degli altri paesi Noi parliamo di Germania La Germania è il paese In assoluto A livello europeo Che ha il tasso maggiore Di inquinamento Delle falde sotterranee E' il paese che in questi anni Ha aumentato in modo considerevole Il numero di capi allevati Nei suoi territori Parliamo dell'Olanda La paragoniamo anche qua Alla maggiore regione zootecnica Che abbiamo nel nostro paese Beh se vale l'equivalente In termini di numero abitanti E numero di animali allevati Beh l'Olanda batte tutti E anche in questo caso In questo paese Si aumenta il numero di capi allevati Tutto il territorio viene identificato Come vulnerabile Non si capisce come facciano Perché se tutto il territorio vulnerabile Dovrebbe aver portato A una drastica diminuzione Di numero di capi allevati In realtà viene esattamente Una situazione opposta La Francia L'abbiamo appreso Negli ultimi mesi La Francia è stata messa In regime sanzionatorio Da parte Dell'Europa Perché non ha mai applicato La direttiva nitrati E ha già anche risposto Che assolutamente Fino al 2016 Non ha nessun tipo di intenzione Di applicare la direttiva nitrati Perché? Perché ci sono delle scelte Che sono strategiche Per ogni paese Per ogni stato membro E chiaramente Siccome noi abbiamo Un piccolo particolare Che nel 2015 Noi andremo ad applicare La nuova politica agricola comune E nell'andare a applicare La nuova politica agricola comune Noi dovremo fare E dovremo portare Le nostre aziende A rispettare Determinate caratteristiche Ma se un paese Non le riconosce Vorrà dire Che tutte quelle aziende agricole Di quel paese Potranno beneficiare Della contribuzione Che ci sarà Per i prossimi sei anni Se noi oggi Non arrivassimo O non dovessimo arrivare A rivedere Quello che è La riperimetrazione Delle zone vulnerabili Entro maggio del 2015 Noi rischiamo Di arrecare Un danno Irreversibile Per la zotenia Di questo paese E quando parliamo Di zotenia Non stiamo parlando Di un settore Marginale O poco significativo Sì perché Il principio La condizionalità Che è un elemento Basilare Che deve essersi E deve essere rispettato All'interno Della domanda Della PAC Detto questo Noi però Dobbiamo ragionare Come dicevo inizialmente Guardando quello Che è un sistema Produttivo E allora Se guardiamo Un sistema Produttivo Noi non possiamo Ignorare Il fatto che Quando parliamo Di zotenia Parliamo Dell'eccellenza Agroalimentare Di questo paese Parliamo Di Grana Padano Parliamo Di parmigiano Reggiano Parliamo Di prosciutto Di parma Parliamo Di San Daniele Parliamo Delle DOP Che ci contraddistinguono Per qualità E che sono Appunto Il vero Made in Italy In tutto il mondo Condizionare Pesantemente Il comparto Zootecnico Sotto questo Punto di vista Non solo Rischia di far Chiudere La zotenia Italiana Ma rischia Addirittura Di andare A indebolire L'unico Settore Che ci sta Sostenendo In un periodo In un momento Di crisi Economica Che non ha precedenti Nel nostro paese Che è L'agroalimentare Tutto questo Per dire Che cosa Per dire Semplicemente Che Fortunatamente Il lavoro Il lavoro Fatto Dalle regioni Il lavoro Fatto Dai due Ministeri Ha sgombrato Il campo E ha detto Sì C'è una responsabilità Anche Della zotenia E anche Qua per far Chiarezza Come organizzazione Noi diciamo Che siamo pronti A farci carico Di ciò Che ci spetta Non siamo più Disponibili Però A caricarci Di responsabilità Che non sono Assolutamente Nostre E a fronte Di questo Noi chiediamo Che appunto Stante la presentazione Professore Che tu hai fatto Questa mattina Immediatamente I due Ministeri Diano La possibilità Alle regioni Di Lavorare Su dati Di carattere Scientifico Per arrivare Alla rivisitazione Delle zone vulnerabili E andare A individuare Quelli che sono I reali Responsabili Dall'inquinamento Delle falde Grazie 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 Grazie